Cari amici ben ritrovati, ben ritrovati con Campania Live, il nostro appuntamento quotidiano in diretta su Otto Channel, canale 16, come ogni mattina spazio alle nostre rubriche di approfondimento, tanti collegamenti con l'informazione ed anche tanti temi da affrontare qui studio. Questa mattina parliamo di cinema, parliamo di musica per raccontare la Napoli più bella, con le sue eccellenze, le sue bellezze, ma è una Napoli che guarda al futuro e che vuole fare in modo che i giovani di questo territorio ne possano essere protagonisti. E noi ne parliamo con Anna Cioffi, imprenditrice. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di averci invitato in questa bellissima trasmissione. Grazie a te Anna. E Anna Maria De Lucia, presidente della Skol Napoli. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Parliamo di questo progetto, una storia, una miniserie, una miniserie di cui i giovani sono protagonisti, ma di cui anche Napoli con le sue bellezze, la sua storia e la sua cultura diventa in qualche modo un personaggio altrettanto protagonista. Ne parleremo a breve, scopriremo poi come questo progetto ci porti a parlare di quello che ho anticipato, ovvero di futuro. Di turismo? Sì. Di tanti argomenti. Ma adesso, come sempre, siamo pronti per i collegamenti con l'informazione. Mi comunicano che andiamo subito ad Avellino da Angelo Giuliani. Angelo, a te. Buongiorno ai telespettatori. Buongiorno ai telespettatori, noi siamo a Collina Liguorini, sotto la sede della regione Campania. C'è stata un'invasione di trattori, trattori da tutta l'Irpinia, da tutta la provincia di Avellino. Come vedete anche nell'inquadratura sono arrivati da Volturara, da Contrada, da Flumeri, dalla Valle Ufita. Sono quasi 200 mezzi a sfilato, a bordo di un trattore anche una bara. Perché? Perché l'agricoltura sta morendo. Questo è il grido d'allarme che hanno lanciato gli agricoltori e gli allevatori oggi qui ad Avellino. Sapete, questa è una protesta che sta attraversando non solo l'Italia, ma anche l'Europa. Sotto accusa le politiche del governo italiano e dell'Unione Europea. Sotto accusa naturalmente i prezzi alle stelle, i rincari altissimi, ad esempio, per il gasolio. Ma anche le prospettive di andare sempre più verso un cibo sintetico, verso un'alimentazione sintetica. E allora loro lanciano il grido d'allarme, l'agricoltura sta morendo. Abbiamo raccolto tantissime voci qui della protesta. Questa protesta l'altro ieri, domenica, era già ad Avellino in Piazza Macello. Ieri è stata a Flumeri e Grotta Minarda. Da quanto raccolto oggi pomeriggio si sposterà a Benevento. Ma loro dicono che sono disposti, sono pronti anche a bloccare le città, la città di Avellino. Ma non solo Avellino, perché vogliono far sentire le loro ragioni. Gli agricoltori, gente dedita al lavoro, gente dedita al sacrificio, che difficilmente si mobilitano, che difficilmente protestano, che hanno grande dignità. Eppure, diceva il consigliere 5 Stelle Ciampi, l'unico politico, mi sembra, a sostenere questa protesta, se anche gli agricoltori scendono in piazza, vuol dire che questo governo sta facendo davvero male, vuol dire che siamo veramente alla disperazione. C'è tantissima gente, ripeto, abbiamo raccolto tantissime voci, la rabbia di questi agricoltori, di questi allevatori, che vedono il loro lavoro nei campi, come dire, messo a repentaglio, compromesso da queste politiche del governo, che hanno anche investito tanto in tecnologie, ma tutto questo rischia di finire, rischia di morire. Quindi avete visto le immagini, sono eloquenti, poi le voci le sentirete nel corso del telegiornale delle 14. Per il momento, Imma, ti restituisco la linea. Assolutamente, grazie Angelo. Avremo poi modo di aggiornarvi, sia su eventuali ulteriori presenze istituzionali, eventuali nuove iniziative, nel corso del telegiornale delle ore 14. Intanto, da Vellino, andiamo a Salerno, da Filippo Notari. Sì, buongiorno Imma, buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno ai telespettatori di 8 Channel. Noi siamo a Salerno, in via Santissimi Martiri, alle nostre spalle il sottopasso ferroviario, dove è in corso un intervento di manutenzione straordinaria dell'arteria e anche di sanificazione. Ma diciamo che questo intervento è propizio anche per accendere i riflettori sul tema della sicurezza stradale. Il Comune ha stanziato 3 milioni di euro per determinati interventi. Noi siamo in compagnia del consigliere comunale del gruppo del Partito Socialista Italiano, Rino Avella, che proprio a seguito di questo intervento ha lanciato un appello all'amministrazione. È necessario eliminare l'area di sosta da questo sottopassaggio per garantire più sicurezza agli utenti? Sicuramente, l'articolo 158 del Codice Civile prevede che sotto i sottopassi non sia possibile parcheggiare. Quindi in termini di sicurezza bisogna intervenire in tal senso. È un'istanza che porterete sul tavolo dell'amministrazione? Sicuramente, anche in consiglio comunale faremo appello all'assessore, al sindaco, che questa cosa deve essere ripristinata in termini di sicurezza e il parcheggio sotto i sottopassi non deve essere previsto. Dunque questo l'appello che arriva dal gruppo del Partito Socialista Italiano di Salerno. Come vedete alle nostre spalle sono in corso interventi di rimozione delle auto e proprio questa situazione ha spinto i socialisti a lanciare un appello all'amministrazione al fine di migliorare la sicurezza nella città di Salerno. Da Salerno è tutto. Linea allo studio. Grazie a Filippo Donutari. Siamo tornati in studio ma siamo pronti da Salerno ad andare adesso a Benevento. Linea a Alessandro Fallarino. Alessandro, a te la linea. Ci collegheremo a breve. Allora chiedo alla regia di comunicarmi non appena saremo pronti ad andare a Benevento. Lo siamo. Prego. A te Alessandro. Buongiorno a te e ai tuoi ospiti ovviamente e ai telespettatori. Da Benevento oggi diciamo l'argomento, uno degli argomenti principali è l'utilizzo dell'acqua della diga di Campolattaro. Infatti è prevista per tra qualche ore a una riunione in provincia insieme tra l'ente provincia e le associazioni degli agricoltori. Quindi col diretti, CIA e Confagricoltura. E si parlerà proprio dell'utilizzo dell'acqua anche per uso irriguo da destinare all'agricoltura. Acqua della diga di Campolattaro struttura, praticamente questa struttura sarà interessata a breve da lavori per la costruzione del potabilizzatore che consentirà la potabilizzazione dell'acqua poi da utilizzare non solo nel Sandro ma anche in altre aree della Campania. Qualche mese fa gli agricoltori, le associazioni che rappresentano la categoria chiesero proprio di poter utilizzare e prevedere delle prese d'acqua per uso irriguo. Ebbene sembra che adesso questa variante al progetto sia possibile e quindi si farà proprio il punto negli uffici della provincia di Benevento. Poi sempre qui alle porte della città stanno iniziando ad arrivare i trattori per la manifestazione che nel primo pomeriggio di oggi toccherà anche il Sandro, la manifestazione di protesta degli agricoltori. Questo è quanto in, ma se non ci sono domande di restituisco la linea. No, ovviamente anche a te Alessandro chiedo, poi ci saranno aggiornamenti ulteriori nel Tg delle 14 perché ci parlavi dei lavori del progetto alla diga di Campolattaro, quella che hai annunciato oggi è una svolta molto importante per un territorio, quello a ridosso del fiume Tammaro, con una grande vocazione agricola. Assolutamente sì ed è per questo che da subito, da come sono stati distanziati i fondi, sia i fondi del PNRR che i fondi della regione per 480 milioni di euro, gli agricoltori, la Coldiretti, la CIA e la Confagricoltura hanno chiesto proprio di inserire una modifica all'interno del progetto per costruire, prevedere delle prese d'acqua prese d'acqua che inizialmente sono previste nel tratto tra Ponte e il Grassano in Balle Telesina però non è escluso che si possa aprire anche ad un'ulteriore modifica che preveda altre prese d'acqua o quantomeno delle predisposizioni da poi utilizzare in futuro in maniera celere anche per l'area del fortore. l'area del fortore è vocazione agricola, vocazione anche per quanto riguarda l'allevamento che ha un gran bisogno di acqua, quindi sfruttare al meglio la risorsa idrica di Campolattaro che ricordiamo da decenni, la diga di Campolattaro costruita decenni fa è arrivato e giunto per fortuna finalmente il momento dell'utilizzo, non solo con il potabilizzatore ma anche l'utilizzo irriguo. Grazie Alessandro, grazie Alessandro Fallarino. Grazie a te. E allora, oggi vi raccontiamo una storia, una storia che parte da un'idea che volesse raccontare Napoli, come ho detto, le sue eccellenze ma che, come ho sottolineato più di una volta, vuole guardare al futuro. Presentata pochi giorni fa, il 21 gennaio, a Aldspace Villa Giannola la miniserie TV, una storia con la regia di Luca Turco. Come nasce questo progetto? Allora, le idee nascono per un insieme di fattori il quotidiano, la condivisione e soprattutto l'ascolto. E dopo la pandemia noi abbiamo vissuto dei momenti drammatici, ci hanno tolto tante cose ma soprattutto hanno messo in evidenza i nostri limiti, le nostre paure. e per il mio lavoro spesso ascoltavo i giovani, i quali rappresentano la scintilla del nostro quotidiano perché i giovani rappresentano la speranza. Io guardavo questi giovani che rappresentano appunto la speranza di una famiglia, di una comunità, di un popolo e vedevo nei loro discorsi e soprattutto nei loro sguardi qualcosa di spento. E non poteva essere che chi rappresenta la speranza, chi rappresenta la scintilla, il futuro è paragonata al concetto di essere spento. Cosa? Si era creata la cosiddetta ipnosi collettiva. Io la sentivo, la subivo. Vedevi questi giovani in qualche modo colpiti da questo periodo che inevitabilmente ha riguardato tutti. E allora ho pensato, ho detto che cosa può sconfiggere e colmare il vuoto dell'essere spento? L'adrenalina di un sogno, il progetto, credere nel futuro, in poche parole diventare protagonisti del proprio cammino. Quindi i giovani hanno il dovere di diventare protagonisti e soprattutto di conseguenza il diritto. Ed ecco che Anna Maria ha deciso di sostenere questo progetto. Un progetto che come dicevamo i giovani, come ci ha sottolineato Anna Cioffi, sono i protagonisti. Anche gli stessi attori sono attori napoletani. A breve ci collegheremo, anzi dovrebbe essere già in collegamento il regista Luca Turco. Lo vedremo a breve. Eccolo, eccolo. Luca, buongiorno. Ciao. Ciao, buongiorno. Salve a tutti. Ti salutano dallo studio. A breve poi ci racconterai come in questa miniserie di cui tu sei il regista, Napoli diventa proprio la protagonista. Stava intervenendo Anna Maria che ci stava spiegando il perché invece ha deciso di sostenere questo progetto che parla di Napoli, di una Napoli bellissima, ma anche di giovani che diventano protagonisti. E pensate, la sfida, mentre oggi spesso anche qui a Campania Live ci ritroviamo a parlare di giovani che vanno via, la loro sfida è fare in modo che anche chi è andato via possa tornare con tutto quel bagaglio culturale di esperienza acquisito anche altrove, ma possa poi sfruttarlo al massimo a Napoli, anche puntando sul turismo. Perfetto. Imma, hai centrato la mission del progetto Nastoria. La scelta di finanziare questo progetto nasce dal valore dei temi affrontati, che trova ancora più risalto nel periodo attuale, con giovani spesso spaisati e con l'incertezza del domani. Per riassumere con pochissime parole una storia, utilizzerei le parole che ha utilizzato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Vercelli. I giovani sono speranza per il nostro territorio. E anche nel suo discorso di fine anno, rivolgendosi sempre ai giovani, ha detto non arrendetevi, non buttatevi giù, prendete il vostro futuro in mano. Una storia è tutto questo, una storia è speranza, ambizione, ricerca di se stessi, riscoperta di se stessi, anche ritornando nel luogo di origine. Molto spesso i giovani vanno fuori per trovare lavoro, trovare la propria strada. Invece in una storia vediamo l'inverso. Una giovane di 25 anni maia che ritorna a Napoli per ritrovare se stesse e riprendere il suo futuro in mano. Una storia quindi, come dicevi, è anche un percorso che unisce cultura e turismo, cinema e realtà. In un percorso che ci porterà ad offrire a chi guarda una nuova visione, una nuova visione del territorio e delle sue bellezze, attraverso la riflessione di spunti importanti su vari aspetti. Vedremo due aspetti differenti dell'amore. Da un lato l'infatuazione di una vita e l'ingenuinità che questo sentimento porta a galla. Dall'altro invece la tenerezza del rapporto nonna-nipote che supererà i confini del gap generazionale. Ma anche un quadro bellissimo sull'amicizia, dove il rapporto cane-padrone riuscirà a superare quel senso di inadeguatezza che molto spesso i giovani avvertono. E poi la volontà, la volontà di realizzare i propri sogni che si scontra con gli ostacoli della vita. Questo è una storia. Tutto questo in una Napoli sempre più apprezzata dai visitatori, dai turisti, raccontata al cinema come in tv. Spesso già lo scorso anno è diventata quasi un set a cielo aperto. Allora chiediamo proprio al regista, a questo punto Luca Turco, che leggo delle sue dichiarazioni subito dopo la presentazione ufficiale. Una storia diventa un ritratto della vita. In che modo? Salve a tutti che mi ripeto. Beh, allora diventa un ritratto della vita proprio perché proviamo a raccontare attraverso gli occhi della protagonista Maya quattro storie differenti. La storia di Maya ci fa da filo conduttore appunto per accompagnarci poi nelle varie storie. Attraverso i suoi occhi noi entriamo nella sua immaginazione e vediamo appunto le quattro tematiche che abbiamo affrontato. La difficoltà veniva proprio dai mezzi e comunque da ciò che ci ritrovavamo davanti. Noi è vero che siamo tutti giovani, ma abbiamo anche un'esperienza importante, chi più e chi meno. Però chiaramente essendo alcuni alle prime armi, e la storia è una delle nostre primissime produzioni, chiaramente non avevamo i mezzi delle grandi invece produzioni, per cui ci siamo dovuti adattare, reinventare e cercare di sfruttare al meglio quello che avevamo. Quindi abbiamo deciso proprio di partire da questo punto di difficoltà e farlo diventare invece un nostro punto di forza. Da questa difficoltà infatti abbiamo iniziato a creare la storia, quindi non avevamo inizialmente la storia, ma piuttosto abbiamo scritto l'intera serie basandoci prima di tutto su ciò che avevamo. E da qui abbiamo provato a realizzare questo progetto. Luca, non è la tua prima regia, ma come è stato? Tu sei un attore ovviamente molto conosciuto. Com'è stato guidare questa miniserie da regista? È stato divertentissimo. Non è la prima regia, perché comunque insieme a Vertigo, la produzione esecutiva del progetto Una Storia, abbiamo fatto, almeno in quest'anno, veramente un sacco di cose. Però questa è stata la nostra prima miniserie, quindi è un progetto lungo, difficile da realizzare. È stato divertentissimo, perché comunque io ero il più grande dell'intera troupe e avevo 32 anni. Chiaramente per portare a casa il progetto abbiamo lavorato a ritmi assurdi, con orari impensabili per qualunque tipo di produzione. Ma ci siamo rimboccati alle maniche, abbiamo provato a far divertire tutta la troupe continuamente, perché altrimenti la concentrazione calava continuamente dopo un po' di ore. Quindi secondo me è stato molto bello, molto divertente. I veri protagonisti sono le persone che hanno lavorato a questo progetto, chi l'ha scritto, chi si è speso animo e corpo per realizzarlo, non solo gli attori, ma veramente tutta la troupe. Grazie, grazie a Luca Turco che ci ha raccontato come è stato lavorare. Ovviamente Luca, io ti dico, hanno già anticipato che ci sono tutte le intenzioni di andare avanti. L'obiettivo è fare in modo che una storia possa arrivare nelle scuole, possa essere un progetto che debba proseguire. Noi ce l'auguriamo, non avevamo aspettative comunque. Noi l'abbiamo realizzato proprio per la voglia di farlo, per la passione del cinema e del nostro lavoro. Quindi se questo può diventare comunque motivo di riflessione o comunque un metodo per arrivare alle menti e ai cuori dei più piccoli, ben venga. Non possiamo anticipare tanto, perché c'è stata la presentazione ufficiale, ma come dicevamo l'intenzione è fare in modo che poi possa arrivare anche nelle scuole. Visto che tu hai subito dichiarato Luca che Napoli diventa in qualche modo, la città di Napoli diventa un attore protagonista. Quali sono i luoghi più belli secondo te che trovano spazio in questa miniserie? Ma ne abbiamo visti tanti, veramente dalla scala di Nata di Massimo Truisi, dal lungomare. Comunque noi abbiamo usato anche il tema proprio del cinema girato a Napoli per poter poi sfruttare queste location per raccontarle in chiave moderna. Napoli è una città fantastica per chi ci vive e soprattutto per chi vuole lavorarci. Noi abbiamo trovato tantissimi set, avevamo l'imbarazzo della scelta, avendo soltanto quattro puntate ne abbiamo scelte purtroppo pochissime. Però io ci lavoro da tanti anni a Napoli e so benissimo le potenzialità di questa città. Per cui spero che possa proseguire una storia o comunque altri progetti in questa città fantastica perché sono sicuro che offre tantissimo per chi ama il cinema e per chi ama il turismo. Quindi sono sicuro che Napoli abbia molto altro da offrire rispetto a ciò che sentiamo spesso. Anche se abbiamo una rivalutazione sia in chiave turistica che cinematografica della città di Napoli e comunque di tutto il territorio campano. Vediamo tantissime produzioni che ormai sfruttano proprio il capoluogo campano per le proprie produzioni. Noi siamo napoletani e quindi chiaramente giocavamo in casa, è stato tutto più facile. Allora Luca, se puoi, resta ancora qualche minuto con noi. Perché è proprio questo di cui parlavamo con Anna Maria ed Anna in apertura, cioè la possibilità di raccontare Napoli ma perché, non solo come ci raccontava Anna Cioffi, anche per questi giovani che dopo la pandemia in qualche modo avevano bisogno di qualcuno che dicesse crediamo in voi, ma anche perché voi siete delle operatrici del settore e entrambe lavorate in ambito turistico, cinema e turismo siete convinte che possano andare insieme? Sì. Allora io penso che Napoli, partiamo dal presupposto che Napoli è la città dove nascono le emozioni per far vivere le emozioni ed è un dato di fatto. Il cinema è importante perché ognuno di noi è legato a un film, ognuno di noi è legato a un protagonista e soprattutto nel bene e nel male ognuno di noi è protagonista di un film meraviglioso che è la nostra vita. E immaginiamo la nostra vita girata a Napoli. Oggi comunicare e vedere attraverso delle scene è il nuovo mezzo di comunicare. E con la storia noi abbiamo fatto una grande sfida, un nuovo modo di comunicare il territorio. Facciamoli con gli occhi e con il cuore e con le orecchie e con tutti i sensi dei giovani perché il futuro è loro e quindi comunichiamolo nel modo giusto. E loro hanno fatto un lavoro meraviglioso perché sono stati protagonisti nella loro scelta, Luca e la sua squadra è la stessa storia, di scegliere Napoli, ma di scegliere degli angoli che spero che questo progetto possa veramente essere visto perché i ragazzi hanno fatto un lavoro meraviglioso. Anna Maria ti stiamo vedendo, io ti sto osservando e studio mentre guardi la presentazione a Nola. È stata una giornata ricca di emozioni, ricca di occhi lucidi, ma soprattutto la bellezza di vedere quei volti dei ragazzi, i protagonisti di una storia, tutti i giovani del cinema, tutti i nuovi volti emergenti. Luca Turco è stato per me una grandissima mano creativa che ha saputo mettere su carta narrazioni e atmosfere partenopee fantastiche. Ecco, vi siete divertite anche tanto. Siamo divertite. Siamo pienissima. La Vertigo Entertainment, questa società nuova, ringrazio anche Andrea Bonelli, Fabrizio Riccardi che rappresentano poi la Vertigo, questi giovani che studiano poi il cinema. Un grande lavoro di squadra. Sì, ma la forza di una storia per me è proprio nel lavoro di squadra, in un lavoro condiviso dove si sono unite generazioni diverse che in modo armonioso si sono intrecciate per creare un prodotto di qualità. Abbiamo visto menti brillanti, giovani, creative e poi chi ha poi un bagaglio di vita vissuto che insieme ai ragazzi è riuscito poi a realizzare una storia. Siete tutte giovanissime. Luca, se sei d'accordo, il cast non supera i 32 anni, ci hai detto, oggi diciamo tutti i trentenni, assolutamente. Allora, in realtà nel cast degli attori c'erano diverse fasce d'età. Avevamo dei giovanissimi, ma anche una signora molto più grande, mentre invece è la troupe che è sorprendentemente giovane, perché appunto io ero il più grande e avevo 32 anni, mentre gli altri avevano tutti sui 25 anni, 22, che addirittura era appena maggiorenne, quindi erano veramente tutti piccoletti. Però vi dico che nonostante l'età di questi ragazzi si sono comportati da veri professionisti. Chiaramente alcuni erano veramente le primissime esperienze, quindi fargli vivere un'esperienza così dura e traumatica come la storia, perché avendo veramente pochi mezzi per poterlo realizzare, quindi abbiamo dovuto tutti noi fare un sacrificio. E la chiave per non fargli vivere questo lavoro male era soltanto quella di ridere tutto il giorno, di scherzare. Anche quando eravamo stanchi, noi un po' più grandi, un po' più esperti, abbiamo provato veramente a essere sempre gentili, sempre sereni, a dare dei consigli quando servivano e a non aggredire quando invece giustamente potevano sbagliare. E questo è stato... Mi sentite? Sì, prego. No, dicevo, questo secondo me è stata la chiave del successo, perché altrimenti senza questi ragazzi, ma mi riferisco soprattutto alla troupe, senza di loro non avremmo mai potuto realizzare un prodotto del genere. Sarebbe impensabile lavorare così tanto, con così pochi mezzi. Quindi noi ci siamo riusciti, e io di questo sono orgoglioso. Sono orgoglioso di loro e credo debbano esserlo anche loro stessi. Io voglio raccontarti che qui studio, mentre tu parli, oltre ad esserci anche grande emozione e tanto divertimento nel guardare le immagini della presentazione. Anna Maria, sei veramente felicissima. C'è poi Anna che sottolineava, non so se hai avuto modo di sentire, l'equilibrio generazionale. Io vi chiedo un'altra cosa. Abbiamo visto pochissime immagini della miniserie, che poi abbiamo detto voi volete portare anche nelle scuole, poi vi chiederò anche perché, secondo voi, deve arrivare nelle scuole, di una valigia. In questo caso però, una valigia che rientra, che torna, c'è l'aspetto di voler fare in modo che i giovani possano tornare, ma puntare sul turismo, secondo voi, voi che operate in questo settore, è un'occasione per il territorio importante? Allora, tornare per il turismo, noi rappresenta il 16% del pilo interno. Napoli, anzi, la regione Campania, ha una possibilità di turismo per 365 giorni all'anno. Puntiamoci giovani, ma soprattutto, e questo volevo aggiungere, è stata anche una manifestazione del privato, dell'imprenditore, che si sta forse sostituendo a quello che dovrebbe essere l'amministrazione. Non c'è polemica in quello che sto dicendo. Noi vogliamo collaborare con le amministrazioni, soprattutto per creare un sistema turistico strutturato. Non ci servono castelli di sabbia. Incominciamo a costruire i pilastri, strutturare tale progetto, e far sì che veramente i giovani possono trovare lavoro, ma soprattutto qualità lavorativa, e soprattutto l'entusiasmo della scelta di rimanere e la possibilità di rimanere nella propria terra. Oggi la regione Campania, se è associato da iniziative, non solo delle amministrazioni, quindi giro un po', ma anche dei privati che riescono ad unire le loro forze, si può creare un grande ritorno con orgoglio per questi giovani. Anna Maria, tu sei giovanissima, però sei un esperto del settore, lavoro in questo settore, la dimostrazione anche che si può fare, possiamo dire così? Si può fare. Io lavoro nell'ambito turistico alberghiero da ben 17 anni, e sono entrata in punta di piedi in un settore molto spesso anche, lasciatemi passare, maschilista e obsoleto. Ho dovuto combattere come... Noi parliamo sempre delle donne in questo studio, anche del rispetto della desinenza dei nomi, quindi assolutamente, però magari non tutti. Diciamo che è stato difficile come donna manager entrare in questo settore abbastanza chiuso molte volte. La fortuna per me è stata incontrare persone come l'imprenditrice Anna Cioffi, che insieme a un altro bel gruppo di professionisti del settore turistico ci siamo uniti, abbiamo riaperto e rifondato Skoll Club Napoli, che è un'associazione turistica a livello mondiale. Noi siamo presenti in 101 nazioni con più di 330 club al mondo, e insieme valorizziamo, promuoviamo, comunichiamo il turismo nel mondo. E' una storia anche un mezzo attraverso il quale poter far vedere la Napoli bella, la Napoli culturale, la Napoli spensierata, attraverso insomma anche i nostri canali Skoll International. Quindi noi che operiamo tutti i giorni nel settore turistico alberghiero, io sono un direttore d'albergo oggi di una struttura 4 stelle a Napoli, Anna è proprietaria con i suoi figli di altre due strutture a Napoli, lavoriamo con i giovani, lavoriamo con le nuove leve che rappresenteranno poi i futuri attori del settore turistico. Speriamo che una storia possa proseguire, possa essere ampliato il progetto, entrando poi nelle scuole e poi anche insomma avere contributi che possano aiutare una storia a crescere. Anna, tu questo confronto si vede da subito, l'hai detto da subito, mi piace tantissimo l'equilibrio tra le diverse generazioni, i diversi punti di vista ed esperienze. In storia c'è ambizione, amicizia, amore, scoperta di sé e cultura napoletana. Sì, oggi si parla tanto di questa napoletanità che spesso nel lavoro precedente, negli anni passati, era il mezzo per poterci prendere in giro. Ti racconto un semplice episodio di due giorni fa, c'era una giornata meravigliosa come oggi, io stavo in sala a colazione, guardavo il cielo, mi giro e sorrido. Non voglio essere banale, ma un cliente, un ospite del nord mi dice basta un semplice cielo e sorridete. A che io cosa ho fatto? Dio, lei si accomodi, le preparo io un caffè, poi le spiego io perché se mi giro e guardo il cielo mi viene un sorriso. La nostra creatività che oggi tutta viene, è un patrimonio qua dell'umanità e perché è una creatività che è passata attraverso il dolore, la sopportazione, l'andare avanti. L'arte di arrangiarsi non era un altro che la forza di andare avanti. Oggi la nostra cultura napoletana, il nostro rapporto con la morte, il nostro rapporto con l'aldilà sono oggetti di studio e sai qual è la sua forza e te lo posso garantire tutti i giorni, che è una cultura del popolo. Vai all'università o vai in un bar, passatemi questo paragone molto grande, la cultura napoletana è sentita perché è una cultura del popolo e ognuno si sente protagonista della propria entità napoletana. Anche l'accoglienza è sempre molto apprezzata, anzi io direi sempre più apprezzati. Come direttore, come direttrice d'albergo lo puoi confermare, è dallo scorso anno che parliamo di tanti record e di tanti soldati. Io ho pochissimi minuti ma abbiamo veramente tante cose da affrontare perché poi raccontare la cultura napoletana a chi come, con l'esempio di Anna, con un sorriso, a chiunque arriva, io gli spiego perché poi c'è questa capacità di sorridere anche per il cielo, per un cielo sereno. Raccontarlo nel cinema è sicuramente... Napoli è positività, Napoli è creatività inventiva, Napoli è l'arte di arrangiarsi giorno per giorno e di crearsi poi il futuro con le proprie mani. Io a Napoli devo tutto. Napoli è stata la città che mi ha permesso di avere grinta, di superare tante difficoltà, tante anche umiliazioni che insomma nel settore alberghiero ho dovuto sopportare. Le difficoltà hai detto non sono mancate ma io... Sì, tenacia e anche la mia cultura contadina perché essendo figlia di due genitori che fanno i contadini io ho reagito a offese personali. Il settore primario è fondamentale quindi non potremmo farne a meno se questo film è nato dopo la pandemia perché tutti chiusi e fermi avete sentito l'esigenza di dire ai giovani al momento di riprendersi in mano il proprio futuro la pandemia ci ha dimostrato che il settore primario è quello proprio che non può mancare l'unico che non si può uno dei pochissimi che non si può fermare e che non si è fermato. Ti chiedo anche se ti prego di essere telegrafica ma abbiamo detto una cosa lo volete portare nelle scuole perché secondo voi sono quasi retorica in questa domanda? Per mostrare ai ragazzi e ai giovani anche un altro modello di giovani come loro. E allora Luca Turco io voglio salutare Luca Turco in collegamento e chiedere anche a lui il messaggio che ha voluto trasmettere che vuole trasmettere con una storia abbiamo visto che si parte con poi ovviamente non anticipiamo nulla della serie di questa miniserie ma questa valigia che rientra questa ragazza che torna beh come vi ho detto prima era il nostro incipit il filo conduttore che ci portava è l'intro della nostra storia una valigia per un ritorno a casa e per riscoprire le proprie origini questo è l'incipit di questo progetto il messaggio che ho voluto comunicare non c'è un vero messaggio perché come vi ho detto ci sono varie puntate che ognuno ha tratto un tema per me la cosa fondamentale prima di tutto era quella di portare a casa un progetto in cui veramente hanno creduto Anna e Anna Maria per prime per le quali io ringrazio e quindi voler dimostrare che comunque si può fare basta voler fare le cose con impegno e passione si può fare tutto quindi io spero che questo sia un incipit anche per per le istituzioni che veramente finanziano pochissimo i progetti cinematografici soprattutto ai ragazzi troppo spesso purtroppo sono sempre le stesse produzioni a ricevere ai finanziamenti e per per film o se in questo io ci metto un po' di polemica invece e purtroppo vengono viste quasi da nessuno noi siamo riusciti a realizzare comunque una cosa un qualcosa con la forza di volontà dei privati quindi spero che sia un incipit per poter aprire le porte anche a a chi è meno conosciuto o chi ha a meno bagaglio d'esperienza perché chiaramente se se nessuno crede nei ragazzi noi o comunque in altri che vogliono fare questo lavoro nessuno riuscirà mai ad iniziare diciamo dire il tuo appello è a dare spazio anche a magari realtà più piccole meno note perché ovviamente è inevitabile ammettere che Napoli sia il set di grandi produzioni ma grandi produzioni anche con grandi successi e i numeri lo confermano diciamo il tuo appello è di dare spazio anche alle realtà più piccole o emergenti ma soprattutto di credere nelle idee e nei progetti di tutti non scartare nessuno e comunque dare sempre una possibilità a chi una possibilità purtroppo se non vengono da scusate il gioco di parole la possibilità di darla non l'avranno mai quindi io spero che come come c'è stato un'Anna Maria per noi ci sia ci siano dei privati ma anche delle istituzioni che credono in tutte le persone che vogliono iniziare questo percorso io devo chiudere ma diciamo era chiaro il tuo appello in realtà più che forse prima diceva Anna Maria io non voglio essere polemica voglio assolutamente però dire che ci deve essere spazio per i giorni come? io sono polemico perché è la verità perché è difficile per chi inizia trovare qualcuno che crede in sé io questo lavoro lo faccio da tanto tempo quindi so benissimo come funziona e so benissimo quanto è difficile invece per chi parte da zero iniziare i primi passi quindi spero che ci siano un po' più spesso vediamo adesso tante produzioni fatte a Napoli ma vorrei che non fossero sempre le stesse vorrei che ci fossero tante spazio anche io purtroppo devo spazio però mi sembrava chiaro tu hai detto diamo un'opportunità a tutti anche magari a chi sta iniziando è giovanissimi tu dicevi voi siete tutti giovanissimi questo è il tuo appello diciamo assolutamente a noi hanno dato una possibilità e i ragazzi della squadra che hanno fatto la truppa di una storia hanno nonostante alcuni erano nelle prime armi sono riusciti comunque a comportarsi come dei veri professionisti io ho lavorato veramente con persone che hanno anche 40 50 anni di esperienza vi posso assicurare che invece i nostri ragazzi sono stati all'altezza delle aspettative anzi l'hanno ampiamente superate e sono sicuro che come loro e come noi ce ne sono tantissimi qui scusate se sono stato bravissimo assolutamente grazie Luca tu sei stato chiaro ce ne sono tantissimi spazi un po' a tutti e magari credere nei giovani nei giovanissimi che poi l'obiettivo del vostro del vostro progetto io l'ho sottolineato ci sono anche delle ovviamente Napoli è diventato ormai da tempo set di grandi produzioni con grandissimi successi però mi sembrava di capire il tuo messaggio si può equilibrare sia la grande realtà il grande successo ma poi anche i piccoli questo dicono loro grazie Luca grazie a voi buona giornata ecco voi sostenevate questo no i grandi benissimo perché sono inevitabili grandi successi le realtà più piccole che volete portare anche nelle scuole e continuare a far crescere io devo chiudere e vi devo salutare e ringraziare io ringrazio te per la tua professionalità e soprattutto per la passione e di cogliere le emozioni nei nostri sguardi nella nostra mente grazie Imma sei stata bravissima grazie Anna Cioffi grazie Maria grazie grazie dell'invito e di questa opportunità brevissima pausa torniamo tra poco con le nostre rubriche ed anche con la musica eccoci tornati in studio in diretta ed ora la nostra rubrica dedicata ai libri con noi Domenico Cerullo già docente dottore in pedagogia impegnato nel dialogo con gli studenti sui temi della legalità e della sicurezza stradale e del lavoro ed è con noi oggi per parlarci del suo libro Basta ben trovato grazie grazie a lei per l'invito parliamo di un volume che avete deciso di pubblicare e di rendere gratuito per parlare a tutti ai giovani ma non solo di sicurezza e soprattutto indurre le persone a capire che seguendo delle semplici piccole regole è fondamentale per tutti certamente sì devo ringraziare il CSV il Pignasagno che mi ha consentito la pubblicazione di questo testo a differenza di tanti altri enti che sono proprio non avevano fondi quindi già questo già fa pensare tante altre cose poi sì dobbiamo parlare dei ragazzi però anche di tutte le strutture che ci sono nel testo io ne parlo cioè io questo testo sono andato spesso e volentieri ad Arpaia per seguire i lavori e c'era una galleria dove c'era scritto galleria non illuminata non illuminata dico va bene può capitare anche se nel testo ho scritto che nelle gallerie ci devono stare due una luce anche di emergenza va bene dico galleria non illuminata sarà successo un imprevisto ritorno dopo tre mesi e da capo c'è scritto questa galleria non illuminata quindi è vero che noi parliamo sempre dei ragazzi e dei ragazzi ma sono tutte le strutture che devono parlare di sicurezza stradale perché sennò diamo sempre la colpa ai ragazzi e ragazzi un altro piccolo esempio costruiscono le scuole l'ingresso principale lo fanno sulla carreggiata e succedono incidenti nel mio lavoro è un lavoro veramente molto molto difficile una raccolta dati dal 2000 a 2022 precisamente fino al 31 ottobre 2023 ci sono morti ci sono ci sono stati incidenti di bambini che sono usciti dalla scuola e sono stati investiti da auto quindi questo è tutto un insieme ci sono delle amministrazioni comunali e lo dico nel testo che fanno consigli comunali per vedere se la sosta a pagamento deve passare da 0,50 a 0,75 allora uno di quei uno di che amministra questo governo questi comuni può mai parlare di sicurezza stradale se fa dei consigli comunali fontini per vedere la differenza che poi la differenza è di 0,25 il suo intervento che può apparire polemico nei confronti di quel che non viene fatto in realtà lei mi raccontava vuole essere soprattutto un invito a fare a confrontarsi perché dice tutti possiamo concorrere maggiormente a promuovere la cultura della sicurezza stradale e del lavoro quindi se da un lato c'è chi è invitato a rispettare le norme e dall'altro a chi è invitato anche a verificare a controllare monitorare certamente i dati con obbligo perdono efficacia mentre quello che conta è la persuasione il convincimento bisogna mettersi la cintura di sicurezza quando vai sulla moto ti rimetti il casco ma dobbiamo parlare dobbiamo fare delle campagne di sensibilizzazione certamente costa la sicurezza stradale ma costa come prevenzione spesso mi invitano dopo che è successo un incidente che un ragazzo di 17 anni è morto mi chiamo mi dice professore potete venire vengo con piacere però io preferisco vedere prima che succeda l'incidente la prevenzione la prevenzione ma se ne fa poca spesso vuol dire poi non mi invitano perché io dico sempre le stesse cose che i comuni fanno cassa con gli autovelox perché non controllano l'etilometro ci sono comuni ma non sto parlando solo della provincia di Avellino è un lavoro a largo respiro i comuni perché non fanno il controllo dell'etilometro perché forse è più facile metterle lei chiede di fare più controlli ma soprattutto c'è un altro aspetto no chiedo scusa più controlli no perché non possiamo pretendere che un carabiniere deve stare dietro a un autoboblista io desidero che ci si faccia più campagne di sensibilizzazione più incontri come è oggi oggi ci sono persone che ci ascoltano entrano a casa è venuto un signore ha parlato di queste cose non ha parlato di queste cose adesso io qua ho delle pile le ho portate volutamente dei fanaletti dei fanali per biciclette lei gira all'auto c'è la patente guiderà e vedrà tante persone soprattutto migranti che girano sulle biciclette vecchie o busolete senza una lucetta di questa una lucetta di questa potrebbe salvare la vita sono dei faretti che si mettono davanti e faretti che si mettono dietro costa poco perché non si fa quando vado nelle scuole a Natale i comuni portano dei panettoni ma dico ma invece di portare dei panettoni che il bambino se lo mangia compriamoci un caschetto si fanno in questi grandi negozi questi grandi magazzini si compra un caschetto per bicicletta è un segnale non è che risolviamo il problema però la scuola dice oggi è venuto il professore è venuto il comune e ci ha portato dieci caschetti è l'esempio l'esempio degli adulti è fondamentale è fondamentale è fondamentale racconto l'ultima cosa se una mamma parla al telefono quando guida poi va a casa e il figlio esce con la moto lo chiamo per nome dice vai piano cerca di essere prudente ma che significato ha questo messaggio se il figlio ha visto la mamma che telefonava mentre guidava cioè l'educazione è un fatto permanente fatto continuo deve coprire tutta la sfera la scuola gli enti i comuni è un lavoro molto molto lungo però sono convinto che possiamo ottenere dei risultati ieri già abbiamo iniziato quest'anno ad Avellino con una donna di 62 anni che è morta ogni anno in Irpinia sono una trentina di persone che perdono la vita ma per quale motivo? perché non facciamo campagne lei dice anche semplice la prevenzione resta la cosa fondamentale anche parlarne ma anche l'esempio faceva l'esempio della mamma che guida deve dare le stesse l'esempio certamente sì l'esempio degli adulti è fondamentale per la crescita l'apprendimento i bambini lo fanno per imitazione è un lavoro continuo perché delle volte ci si chiamano gli spursori venite a fare la lezione ma che serve se poi quello nella scuola le strisce pedonali le macchine sono parcheggiate sulle strisce pedonali ecco qua le mamme che portano i bambini sulle gambette sono convinti di tenerli abbracciati ma è un errore gravissimo perché basta una piccola frenata però sono cose che dobbiamo dire tante tante io non capisco perché e dire sempre poi non smettere mai per poter arrivare sempre a più persone è il motivo anche per cui avete reso gratuito il libro certamente sì ecco perché il CSV ha fatto un'opera meritoria lo vogliamo distribuire in tutti i comuni della provincia di Avellino e di Benevento è un lavoro anche per noi perché spostarci mentre poi ci sono gli enti che hanno le macchine istituzionali ci hanno fondi diciamo la vostra mission è proprio questa fare prevenzione per riuscire ad arrivare col vostro impegno a sempre più persone ma certamente sì con il vostro direttore è una vita che abbiamo fatto incontri in diretta con la polizia stradale con l'associazione familiare vittime della strada e però vediamo ancora che le strisce pedonali non ci sono la galleria spero di adesso non so se farò sarà ripubblicato il testo spero di andare ad Arpaia e non trovare più quella scritta galleria non illuminata perché in una galleria non illuminata è facile che avvengano incidenti magari avrà sicuramente modo di verificare intanto poiché siamo in chiusura le chiedo lei sottolinea un altro aspetto l'applicazione di corrette procedure di lavoro e assicurare un'adeguata alimentazione durante le giornate può servire a ridurre il numero di infortuni come migliorare non solo le condizioni dei lavoratori una formazione costante sono questi tutti i messaggi che vuole trasmettere con questo libro ma anche col suo impegno a parlare nelle scuole e come ci raccontava a partecipare ad ogni occasione in cui si possa parlare di prevenzione ma poi voglio si è giustissimo però devo ringraziare anche gli artisti che in maniera spontanea e con entusiasmo hanno collaborato alla nostra iniziativa e hanno fatto delle opere io qui ce n'ho qualcuna per esempio proprio sui trattori perché sui trattori muoiono tante persone 71 persone ovviamente ricordiamo per quanto riguarda i trattori e quindi lavoro in agricoltura le normative negli ultimi anni sono molto cambiate sono intensificate forse anche dopo dei casi però sicuramente tanto sul lavoro tanto alla guida parlare di prevenzione forse non basta mai e dobbiamo invitare le persone che guidano i trattori ad indossare sempre la cintura perché spesso e volentieri non la indossano quindi poi il trattore si capavolge delle volte sono piccole cose c'è un artista che mi ha fatto un lavoro appunto di un trattore capavolto e quindi cerchiamo di educare le persone a vivere i posti di lavoro rispettando le norme e anche il trattore di lavoro deve investire nella formazione ci sono dei ragazzi che purtroppo muoiono sul lavoro giovanissimi quindi formazione e sensibilizzazione certamente sì però è una cosa continua non possiamo ridurre solo queste due parole ma deve essere una cosa fatta con passione con dedizione e soprattutto credere questo testo l'ho dedicato a tutti quelli che credono veramente sull'importanza dell'educazione della prevenzione sull'educazione stradale e sul lavoro se poi lo fanno solo perché sono tenuti sono costretti per lavoro no siamo fuori ognuno di noi deve mettere un messaggio deve entrare in empatia e le persone che ci ascoltano capiscono se la persona che parla ci crede o non ci grida e allora grazie grazie a Domenico Cerullo per essere stato con noi grazie a voi grazie 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 brevissima pausa e come anticipato arriva il momento dedicato alla musica ed ora musica grazie a Domenico Cerullo sotto il tempo di guerra su se tante terra non ti faccio il rastri quattro da randello ratti una mano pensa di mano piglia la rira se ho fatto o vire strano o bene torna o almeno così se riccia a me è santa se magna una liscia che accusa non c'è un gamba felice tu quando sei che ho postato ma si sei martinato vado a confessare sono tempo curioso ma che di nervoso è pura ma dorme la rena ma pena non si tenere già sono tutta infusa per sei sulle nas scusi feri ma sto bluza è per fare nuvato esficzioso e ma da buccia pilla o vertuza e panavano di viaggio a nishpino ma quando ne ten sei sempre esbredato ma sai che subito sei no bocato va è andando se fata scura è canhata temperatura sofrita che traza mo sei pa ma becchelare ornate zola duno se respira dov'è non viro e passare frittura e baranza milione ma io ne fu lato per mezza naviga marona ciascanzi chi spenna e spenna vuoi spare che vuoi tu sola ah ma io che se dire a campare ma ora si sprega per l'amare o sta è andando se è fatta notte l'orista che se non fota sto fritta che traza mo sto frittura e buccio stipa ma perché la giornata è sola duno se respira dov'è non viro e passa e tu mi lascia mi sta d'inche in bici va capa e poi ci sparià pota gente da cira speranza non mora per l'anato io ne so steppone per l'anato io ne so sta pizzi da ne bomba per l'anato io ne so steppone ah ma 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 sta pizzi da ne bomba Antonio Maiello a Campania live chitarrista, canto-atore di estrazione blues dal 2006 ad oggi vanta una lunga serie di collaborazioni importanti tra cui il sodalizio artistico con Gianfranco Gallo con il quale collabora dal 2013 come musicista unico musicista e scena per ben sei tournei di teatro e canzone sei rispettivi spettacoli nonché quello con Enzo Gragnaniello dal 2017 al 2023 però cosa accade a gennaio 2024 Antonio che pubblica il suo primo lavoro discografico le cose che non ho da fare in veste di cantatore e allora come dice proprio Gianfranco Gallo nel video Antone hai fatto, hai cantato? Ho cantato, finalmente ho cantato no diciamo che era una cosa non preventivata è stata una cosa non preventivata io nel corso degli anni già avevo scritto delle cose però facendo solo il chitarrista mi capitava di lasciarle lì oppure di farle cantare ad altre persone stavolta invece questo progetto è venuto fuori per un fatto puramente istintivo erano emozioni troppo intime troppo personali per farle cantare ad altri e allora ho voluto cantarle e registrarle io così come sono venute fuori per pur istinto perché del resto è venuto fuori in un periodo in cui stavo facendo tutt'altro per la prima volta mi trovavo di fronte un'estate senza tournée a differenza degli anni precedenti e quindi volevo approfittarne per fare qualcosa che da tempo volevo fare non avevo mai avuto il tempo di fare e quindi stavo lavorando su delle cose mie ma in quel momento era un progetto strumentale e quindi man mano che lavoravo a queste cose per un fatto distinto tra l'altro era anche un periodo abbastanza particolare dal punto di vista emotivo perché avevo perso nonna quindi ero un po' turbato una nonna a cui ero molto molto legato quindi forse è stato anche questo a scaturire un po' il tutto e quindi è venuto fuori questo album di 11 canzoni da me cantate di cui firmo testi, musiche e arrangiamenti Perché le cose che non ho da fare? Allora, le cose che non ho da fare mi piaceva innanzitutto perché come ho già detto era usanza dei dischi di blues e di canto autorato con cui sono cresciuto che il titolo fosse che il titolo dell'album fosse il titolo della canzone di una delle canzoni o la frase di una delle canzoni e a me piaceva questa seconda ipotesi per cui ho scelto questa frase che è strapolata dalla seconda traccia dell'album ma certe volte poi si chiama la canzone da cui è strapolata questa frase perché ho scelto questa frase? Perché le cose che non ho da fare possono essere ad esempio le cose che ho già fatto e quindi mi piaceva questo modo simpatico per definire il passato dal momento che comunque all'interno del disco sono riscontrabili molte delle influenze che mi hanno formato che hanno contribuito alla mia formazione quindi in primo luogo per questo motivo in secondo luogo proprio perché come ti dicevo era una cosa non preventivata quindi è stata una cosa non era ciò che stavo facendo e neanche ciò che dovevo fare in quel momento per me le canzoni erano le cose che non avevo da fare e ancora oggi perché poi io mi auguro di poterlo portare in giro questo progetto però non ancora so quindi diciamo la speranza era quella e il secondo motivo è stato questo e poi infine semplicemente perché mi piaceva mi faceva sorridere perché le cose che non hai da fare possono non esistere esistono le cose che hai da fare non quelle che non hai da fare quindi insomma è una frase che può significare un po' tutto e niente così come questo disco in base alla predisposizione con cui lo si va ad ascoltare e tu oggi sei qui come cantatore però la prima cosa che mi hai detto io mi considero soprattutto un chitarrista una passione per la chitarra che inizia all'età di nove anni di nove anni sì ho iniziato a suonare a nove anni inizialmente era uno studio di chitarra classica che poi ho abbandonato nell'età adolescenziale per intraprendere la chitarra elettrica la chitarra acustica un po' d'autodidatta perché poi alla fine ho imparato a suonare mi riferisco alle scale alla parte solista diciamo l'ho imparata inizialmente da me attraverso l'utilizzo di una loop station che è una prima forma di registratore in commercio che ti consentiva di registrare delle cose quindi di sovrincidere altre cose di suonare di poter capire quali erano le note poi che ci stessero bene su quegli accordi che registravi e quindi così facendo ho realizzato delle mie mappe concettuali che mi hanno consentito di suonare e poi a queste cose gli ho dato un nome successivamente perché poi ho intrapreso anche un percorso di studi conservatoriale insomma però errori del passato sai come si dice no scherzo è una cosa che ho fatto in un secondo momento mi sono iscritto in conservatorio a 30 anni quando già avevo intrapreso questo lavoro da una decina d'anni e l'ho fatto per potermi completare perché avevo sete di conoscenza anche in quel settore lì perché poi mi sono laureato in chitarra jazz inizialmente ho preso un biennio in musica applicata ai contesti multimediali questo non figura non lo dico mai però stavolta già che mi trovo sto parlando di me ti dico anche questo tanto devi sapere che a campagna live ormai è un'abitudine che gli artisti e gli ospiti poi decidano di raccontare quel che fanno ma anche di raccontarsi e allora tra le cose da raccontare c'è anche un'altra collaborazione importante nel 2020 viene scelto da Alex Britti per rappresentare uno dei due membri della giuria del contest del contest chitarristico indetto proprio nel periodo del covid al fine di aiutare gli ospedali in difficoltà quindi diciamo questo periodo covid di cui spesso parliamo purtroppo negativamente tu hai detto io anche degli aspetti positivi per me è stato così perché poi io ho avuto la fortuna di conoscere Alex dopo esserne diventato fan da adolescente ho avuto la fortuna di conoscerlo successivamente e quindi di instaurare con lui il rapporto perché poi lui è una persona meravigliosa affabile disponibile da sempre insomma umilissima quindi questo rapporto è andato avanti nel corso del tempo finché nel 2020 lui mi ha scelto non so se per stima per affetto a me piace pensare che sia per entrambe le cose mi ha scelto per rappresentare uno dei due giudici della giuria di questo contest chitarristico da lui indetto come ha appena detto nel periodo del covid per esortare le persone inizialmente fece delle dirette per fare un po' di fan per riunire un po' di fan e diciamo esortarli a devolvere per degli ospedali che in quel momento ne avevano necessità poi da lì in poi gli venne in mente questa idea di fare un contest chitarristico e quindi mi ritenne opportuno per rappresentare uno dei due membri della giuria e mi sono divertito siamo stati tre mesi in stretto contatto la mattina e la sera per queste cose quindi diciamo è stata una bellissima esperienza poi del resto quando la musica riesce ad avere un indirizzo sociale ben preciso anche per noi artisti la gratificazione cresce mesorabilmente e assume decisamente un valore più significativo ed era quello il legame il periodo in cui tu inizi a pensare di pubblicare qualcosa da cantautore sì avevo fatto delle cose come ti dicevo prima però le avevo erano sporadiche erano fine a se stesse in quel momento quindi non era non era preventivato non era nel mio pensiero fare un disco da cantautore poi l'idea mi è venuta ti ripeto per istinto in quest'estate io volevo fare un disco perché a un certo punto un musicista ha l'esigenza di lasciare una traccia del proprio passaggio su questa terra così come dovrebbe fare chiunque secondo me facendo solo il musicista la prima cosa che ti viene in mente è un progetto strumentale tra l'altro ho dei temi strumentali che prima o poi riprenderò perché mi piacciono e stavo lavorando a quello quindi l'idea mi è venuta all'improvviso perché poi mi sono venuti per istinto di queste canzoni quindi una volta che scrivi il primo testo scrivi il secondo scrivi il terzo poi entri in una qual è che è stato in cui hai deciso tu ci raccontavi questa questa qui ho scritto i primi brani inizio giugno e ho finito di scrivere gli ultimi brani a metà luglio quindi è stato un percorso velocissimo proprio di pancia anche molto breve di istinto di emozioni ci hai raccontato ho impiegato più tempo poi a radunare i ragazzi gli amici che hanno lavorato con me i musicisti bravissimi che hanno lavorato con me perché comunque è il periodo estivo quindi è un po' più difficile reperirli e quindi diciamo ho impiegato più tempo per la produzione studio che per realizzare i brani dal punto di vista l'idea poi c'era sempre stata sì in qualche modo si poteva sì forse sì non so se come cantautore però l'idea c'era sempre stata di presentare qualcosa di mio sicuramente e poi tre mesi ed ecco le cose che non ho da fare poi parleremo anche dell'estrazione blues ma cosa ti fa piacere farci ascoltare ancora adesso guarda ti potrei far ascoltare tante cose però al momento voglio scegliere una canzone che si ha Passione e Croce che è stato scritto veramente di getto è una canzone molto intima spero che ti piaccia insomma te la faccio sentire che è stato scritto che è stato scritto Per me due settemba mare doce, tu sei pasione croce, se aluna ca mărișă, va-mi brezze ca mașini, tu sei durmien de paș, tu sei calore voce, voce cura incontra lui, ce l'asta-i tu. Ti las tu cuore, carin da notte sa jenei paura, tutto è più strano quando il cielo è scuro, te tiene strito bene e più sicuro, rince l'angora, casi bollano ma se senta nura, se mette scurne a parlare con cuore, e ho l'asta fora. Per me due settemba mare doce, tu sei pasione croce, se aluna ca mărișă, va-mi brezze ca mașini, tu sei durmien de paș, tu sei calore voce, voce cura incontra lui, ce l'asta-i tu. Mmm... Mmm... Antonio Maiello a Campania Live, con le cose che non ho da fare, primo lavoro discografico, un lavoro che ci raccontavi in qualche modo nato di getto, questa era una canzone ricca di emozioni. Cosa voleva dire? Guarda io sono del parere che le canzoni non vadano mai spiegate più di tanto Cioè io ti posso dire lo stato d'animo che c'è dietro a una canzone E quello di questa canzone credo che si evinca in maniera naturale Per il resto non credo si debba dire più di tanto Per il semplice fatto che se io ti racconto a cosa mi riferisco O cosa volevo dire O se ti racconto il semplice fattarello Come spesso avviene in alcune canzoni Tu nel momento in cui ascolterai quella canzone Penserai sempre solo a quella cosa lì Quindi una parte della magia poi svanisce Perché secondo me il bello soprattutto del cantautorato Dell'ascoltare brani di cantautorato È proprio quello che ognuno possa avere un'interpretazione soggettiva Quindi magari una persona possa vederci qualcosa In relazione al proprio vissuto e altre cose Quindi è proprio questo il lato magico E io quindi cerco di mantenere Non per, ti ripeto, né per fare il prezioso Né per alcun tipo di belletà Semplicemente per questo motivo Perché non voglio rovinare le emozioni A me capita così E quindi penso che anche per gli altri sia così Non voglio rovinare le emozioni raccontando Ognuno ci deve vedere qualcosa di soggettivo Che capito Beh, chiunque possa individuare la persona La cosa, l'esperienza che possa essere tormento Certo, certo O pace, tormento Esatto, è una cosa in cui si possono immedesimare Diverse persone in diversi modi Quindi non credo che, soprattutto questo Non credo che vada spiegato più di tanto E ti racconterò anch'io Capita spesso agli autori, no? Quando scrivo un libro, racconti una storia Tu l'immagini in un modo Cioè poi il confronto col pubblico Come viene recepita? Quindi in qualche modo tu vuoi che ognuno possa recepirla? A modo suo, no? C'è ancora altro da raccontare Ovvero l'estrazione blues Sì Come ti avvicini? Mi avvicino per un aneddoto simpatico Perché io ho iniziato a suonare Per fare, per realizzare Per suonare le canzoni di Pino Daniele Perché io ero fissato per Pino Daniele E mi ero proprio innamorato Del resto si sente anche all'interno del disco L'influenza di cui risento È quella del Napolitan Power Da Pino Daniele in poi E poi tante altre cose Perché proprio è iniziato da lì Pino Daniele è stato il primo È stato quello che c'è sempre stato È quello che ci sarà sempre Quindi io ho iniziato a suonare Come ti dicevo Per fare le sue canzoni Perché avevo scoperto Una cassetta di Pino Daniele In macchina di musico Pasquale Quindi mi appassionai A tutto il repertorio di Pino Daniele Allora non c'era internet Quindi dovevi recarti Ricordo alla Ricordia A Napoli E dovevo ordinare Col catalogo Di volta in volta I vari dischi E andavo a ritrosa Perché già aveva pubblicato Tipo una decina di dischi Pino Daniele Fino a quel momento Comunque per fartela breve Fini tutti i dischi di Pino Daniele Perché poi me li ordinavo man mano Me li divoravo E volevo ascoltare Altra roba simile Quindi chiedevo Alle persone più grandi Ma Pino Daniele Che genere E tutti quanti mi dicevano No ma è blues Pino Daniele è blues Quindi dissi Ok musica che faccio Vado da Ricordi E ordino un bel disco di blues E trovai All'erro c'erano ancora Le musica set Trovai un trittico Tre musica set Un Grey di Stiz No il meglio di tutto il blues Dissi ok Se Pino Daniele è blues E questo è il meglio di tutto il blues Ma ok Ma il recreo proprio Quindi mi ricordo Che l'aspettativa era alta E andai a casa Appena misi questa cassetta E poi parliamo comunque Degli albori del blues Quindi erano registrazioni Risalenti al 1920 Con un'altra timbrica Proprio un'altra tipologia di suono Quindi già quando misi la cassetta Nello stella Dissi oddio Qua non mi pare proprio Come Pino Daniele Poi dissi Mi ricorda Avevo spisso 37 mila lire Ancora adesso Ma lo ricordi Dissi no Del vecchio conio Dissi mo E spisso 37 mila lire Mo te lo senti E tu fai No così Scherzando Poi da lì Ho iniziato ad ascoltare E poi questo C'erano delle Chiaramente delle analogie Con la musica di Pino Daniele Probabilmente è stato quello Che poi mi ha portato Ad esplorarlo ancora di più E fino a farmi affascinare Totalmente da questo genere Perché poi mi ha anche Influenzato molto Dal punto di vista pratico E poi c'è stata una fase In cui ho studiato Chitarra acustica percussiva Che comunque Andava ad incrociare questo mondo E poi la fase elettrica Insomma Ci sono state È stato un mio compagno di viaggio Il blues E ancora oggi Chiaramente risento Questo tipo di influenze Pur avendo fatto Una tipologia di disco Più mediterraneo Se vogliamo Perché comunque c'è il blues Ma c'è come contorno Nel senso che viene fuori Nelle armonie Viene fuori nel mio playing Viene fuori nelle intenzioni Ma non è Il protagonista Ho preferito dare più spazio Alle canzoni In questo caso Al messaggio Però sicuramente Il blues Fa parte della mia formazione Ed è un elemento integrante Nel mio modo di suonare E questo Nell'età adolescenziale Fase adolescenziale È fondato il primo gruppo Delle tante importanti collaborazioni Fino ad oggi Ne abbiamo parlato Ma abbiamo detto A gennaio Arriva questo primo Lavoro discografico Quali sono Se è possibile Già annunciare I prossimi progetti Guarda Progetti Io in realtà Proprio perché è un progetto Tra virgolette nuovo È una veste nuova per me Io spero Mi auguro di poterla portare in giro Quest'estate Sicuramente faremo una presentazione A marzo del progetto E poi mi auguro di poterla portare in giro Io ho una band di tutto rispetto E ho la fortuna di conoscere Musicisti straordinari Che hanno suonato per me Anche in questo disco Dandomi il massimo Del loro impegno Della loro dedizione E quindi è proprio Sulla base di questo Su questa forza Che voglio contare Per poter fare anche dei live Perché poi uno Quando fa il musicista Per tutto questo tempo Si è abituato sempre A stare sul palco Quindi il live Deve essere il mio punto di forza Capito Quindi vorrei Con tutto il cuore Riuscire a portare in giro Questo progetto Se poi non dovesse succedere Continuerei a fare il chitarrista Come ho sempre fatto Allora magari le due cose Andranno insieme Se riuscissi a farlo Poi diventerai il chitarrista Di me stesso Che è la cosa più bella Allora visto che Ci raccontavi Il palco Non deve assolutamente Mancare questo legame Al palco Al pubblico Di Campania Live C'è qualcos'altro Che vogliamo far sentire Visto che oggi Ci stai portando Ci stai conducendo Delle emozioni Anche liberandoci Di scegliere Che emozioni provare Mi fa piacere Di questa cosa Che hai detto Voglio far sentire Un brano Il primo brano Il primo brano dell'album Quello che apre il disco Si chiama Tutta giornata E non ti dico niente più Sempre può farti prima Io ascolto E poi ti dico io Allora E poi ti dico io Il primo brano Sì, giorni, non si contano, so chi ne luce che ha una brucia, con la caccia portano, ma rosto sola, vanno vieti ancora là, ma noi non siamo più, che la raiera, ovviamente passano la sé pensiera, dimmelo tu, dimmi se è vero che ancora stai caldo. Luce, che tracenta stivica, pace, te cerchi in un dottico, cosci sul sole quando non ci stai tu, vieni, tu canti e tu non pensi a niente, posso non ancora e tu mi senti, guardando tutto blu che vuoi tu, guardando tutto blu che vuoi tu. E in tante storie gira, chi va lontana passa a mano, ci orte che si mescano, da sta agita, acqua e marcava, mai venga ero stai tu, tutta giornata, se non vienes abbracci, non faci ma bacata, se a luna già riesgo, passate passate, ma non ci stai tu, vieni, tu canti e tu non pensi a niente, posso non ancora e tu mi senti, guardando tutto blu che vuoi tu, guardando tutto blu che vuoi tu, guardando tutto blu che vuoi tu. Guardando tutto blu che vuoi tu, 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 Tutto blu Complimenti Grazie Però io a questo punto sono io che ti faccio le domande Quanto di Napoli c'è nelle tue canzoni? Il blu a me vi fa immaginare Mergellina Il Castel del Loco Guarda gli elementi naturali Ti dico questa cosa prima di rispondere alla tua domanda Gli elementi naturali sono venuti fuori nelle canzoni Li trovi un po' ovunque Poi rileggendo i miei testi col senno di poi Perché ti ripeto quando sono nati sono venuti fuori per un fatto istintivo Però oggi analizzandoli poi a posteriore come si dice Col senno di poi Denoto che gli elementi naturali sono presenti quasi in tutte le canzoni Ma vengono fuori perché fanno parte del mio modo di vedere le cose Proprio nella realtà le adoro E Napoli chiaramente in relazione a questo concetto qui Nel senso che il mio rapporto con Napoli si è intensificato Appunto dal 2013 in poi Da quando ho iniziato a collaborare con Gianfranco Gallo E poi ancora di più nel periodo dal 2017 al 2023 Che oltre a lavorare con Gianfranco Lavoravo anche per Enzo Gragnaniello Quindi diciamo che passavo più tempo a Napoli Che nel mio paesino Per cui sono molto legato Poi dall'altro i cantautori con cui sono cresciuto Vengono tutti da lì Prima ti ho nominato Pino Daniele Ma ce ne sono milioni Io adoro la musica nostrana, la musica napoletana Quindi proprio è un fatto di cultura, di appartenenza Ed è molto importante, è molto presente nel disco Proprio a livello ideologico è molto presente Non ti chiedo altro perché hai detto che dobbiamo essere poi noi liberi E di tradurre in emozioni e interpretare quello che tu racconti In questo tuo primo lavoro discografico come cantatore Le cose che non ho da dire Allora io ti chiedo Non ho da fare Assolutamente hai fatto bene Le cose che non ho da fare Questo perché tu ci hai voluto dire da subito Forse sono quelle che abbiamo già fatto Non esistono le cose che non ho da fare in fondo Io invece ora devo fare una cosa Ti chiedo di restare con noi Diamo nuovamente la linea all'informazione Con Rossella Strianese Che ci anticipa Quelle che saranno le principali informazioni Affrontate nel Tg delle ore 14 A te Rossella Grazie Imma Buongiorno a tutti i telespettatori di Campania Live Allora tanta cronaca oggi nel nostro telegiornale Lotta alla Camorra Scacco ai clan di Forcella L'operazione della DDA Questa mattina ha preso il reggente dei Mazzarella E i vertici delle famiglie Bonerba e Cardarelli Fra i tredici arrestati c'è anche il fratello del killer Che uccise Emanuele Sibillo Il baby boss a capo dell'apparanza dei bambini E poi l'omicidio di Jojo Arrestato il complice Anthony Muccio Indagato per l'assassinio di Giovanni Battista Cutolo E' stato arrestato in Spagna per rapina E' uno dei due giovani che si trovava in compagnia del 17enne Accusato di aver ucciso il musicista napoletano Arriva la svolta dei rifiuti a Napoli Adesso basta degrado Presentati i nuovi mezzi green a disposizione di Asia E la grande novità riguarda l'entrata in servizio Degli ispettori ambientali Multe salate per chi inquina e non rispetta la raccolta differenziata E' la prima volta a Napoli Il sindaco Manfredi chiede più attenzione al decoro della città La rivolta dei trattori L'agricoltura che sta morendo Quasi 200 mezzi davanti agli uffici della regione Campania In collina Liguorini ad Avellino In corteo anche una bara Per dire no alle politiche del governo e dell'Europa Che stanno uccidendo il comparto agricolo L'inchiesta sugli appalti La finanza da Alfieri L'indagine della procura di Salerno Questa mattina le fiamme gialle hanno acquisito documentazione Negli uffici della provincia e presso lo studio privato del sindaco di Capaccio Pestum Infine criminalità in Valle Caudina Tenere alta la guardia L'associazione si mobilita con un doppio appuntamento nel Sannio A Castelvenere e Sant'Agata dei Goti Con la presenza di Don Luigi Ciotti Martino avverte necessario liberare il nostro territorio dall'invadenza delle mafie Questo e tante altre notizie nell'edizione delle 14 Vi aspetto su 8 Channel Grazie Rossella Zrianese Allora colleghiamoci velocemente anche con i nostri social Che ci aggiornano costantemente sulle produzioni in onda Su 8 Channel, Canale 16 E c'è un appuntamento sportivo Anche questa sera alle 20.30 Su 8 Channel, Canale 16 Appuntamento con Granatissimi L'approfondimento dedicato alla Salernitana Vediamo ancora velocemente L'approfondimento con la rubrica punto di vista A cura del direttore Pierluigi Melillo E ancora Vediamo Carli 8 gol La possibilità, vi ricordo sempre Di rivedere in versione on demand Dal sito 8channel.tv Le nostre produzioni E come vi dico sempre Se volete riseguire Campania Live E anche ascoltare Antonio Maiello Potete farlo in versione on demand Dal sito www.8channel.tv Antonio, noi siamo in chiusura È stato veramente un piacere Averti con noi Grazie, è un piacere mio Grazie a voi per avermi voluto qui Grazie di cuore Abbiamo detto A marzo la presentazione Quando vuoi ti ascoltiamo ancora? Certo Allora, grazie ancora Antonio Maiello Che è venuto qui a parlare della sua storia La disponibilità a raccontarsi E a raccontarci del suo nuovo lavoro discografico Ricordiamolo, le cose che non ho da fare Io devo a questo punto salutarvi E ringraziare tutti voi Come sempre ci rivediamo domani in diretta A partire dalle 11.30 su 8channel, canale 16 E ringraziare tutti voi